L'almanacco della fede Di padre Livio Cari amici, non possiamo non soffermarci Sulla situazione nella quale ci troviamo Con questa nuova guerra Che è scoppiata in Medio Oriente Che ha l'impressione di durare un po' di tempo E comunque è una guerra che suscita apprensione E soprattutto per la carica di odio con cui è circondata Che manifesta È tutta una situazione non solo in Medio Oriente Ma anche nel mondo È una situazione, possiamo dire, esplosiva Insomma, quindi Poi tutti fanno i loro giochi Compresi Mars Media Per cui diciamo Però noi abbiamo Come dire Il termometro Per sapere di cosa si tratta E questo termometro Sono i messaggi della regia della pace E come sapete Quando è incominciata la guerra in Ucraina Improvvisamente Il messaggio della regia della pace Del 25 febbraio del 2022 Era drammatico Ora è incominciata questa esplosione Che il solo fatto che sia avvenuto Il 7 ottobre Il giorno della Madonna del Rosario Questo attacco Diciamo Che ha portato Come conseguenza Oltre mille morti E poi almeno 5.000 feriti E poi ha colpito per Come dire Per l'efferatezza dell'assalto Insomma Che non era soltanto rivolto Ai giovani del party Ma anche ai bambini Anziani dei kibbutz Quindi Però Quindi Questo evento Che è già inquadrato Nel 7 ottobre Ci fa capire Come la Madonna Aveva già messo Come dire In qualche modo Un freno Diciamo Alla volontà di Sadr Di incendiare il mondo Ma poi Anche qui Cari amici Nel messaggio Che la Madonna Ha dato a Ivan E poi successivamente Maria Il 25 ottobre Ci dice La previsione Della Madonna Per questo Quindi Il messaggio Che ha dato a Ivan La Madonna ha detto Voglio Che capiate La gravità Della situazione Allora Questa cosa La Madonna L'aveva detta Anche il 25 luglio Del 1991 Alla vigilia Degli eventi Che sono accaduti Nell'Unione Sovietica L'agosto Del 1991 Fu un mese Delicatissimo Poteva essere anche Nell'intenzione di Satana Una conflagrazione mondiale Perché ci fu un colpo Di Stato In Russia Che depose Gorbaciov I militari Cercarono di frenare Il crollo Della Unione Sovietica Che comunque Era in atto Perché già Era colato Il muro di Berlino Quindi Non c'era più freno Diciamo Quello che Stava accadendo E miracolosamente Possiamo dire Invece Il colpo di Stato Ha fallito Perché I militari Che erano a Mosca Hanno sostenuto Yersin Quindi Però Allora La Madonna Quel 25 Luglio Nel 1991 Diede un messaggio Molto allarmante Identico A quello Che ha dato A Ivan Qualche giorno fa E Cioè Che Ha detto Voglio che siate Consapevoli Della gravità Della situazione Prima ha detto Poi ha detto Che Gran parte Di quello Che accadrà Dipende Dalle vostre preghiere Che c'è anche Molto responsabilizzato Alla Madonna Quindi Possiamo ben dire Che La situazione Attuale Nel Medio Oriente Dal punto di vista Del cielo È una situazione Esplosiva Che forse va anche Al di là Diciamo Del Medio Oriente Stesso come si vede Dall'iechi Che ha nel mondo Ovunque E soprattutto Anche nel mondo Occidentale Insomma Dove Ha cominciato Di nuovo A A vagare Il miraggio Di una nuova Shoah Insomma Quindi Questo ovviamente La Madonna Da tempo L'aveva previsto Da tempo Ci aveva detto Che Satà Vuol distruggere Le vostre vite E per il da su quale Vivete E poi ci ha anche detto Ma Dio Vi ama E manda a me Per salvare Le vostre vite E per il da su quale Viviamo Quindi noi Quando Sottolineiamo La gravità Nella situazione Cari amici Non lo facciamo Per fare paura Alla persona Perché usiamo La strategia Del terrore La Madonna Usa mai La strategia Del terrore La Madonna È quel medico Che ti dice Hai un tumore Grave Ma io Con l'intervento Chirurgico Ti guarirò Quindi Questa è Perché la Madonna Ha il potere Di fare questo Dunque Questa è la nostra Impostazione Non Non Come dire Essere superficiali E non Vedare La realtà Gravissima Nel quale Il mondo Si trova Perché Come ha detto La Madonna L'umanità Ha deciso Per la morte Quindi È una situazione Di grandissimo Pericolo Però La Madonna Ci dà sempre I rimedi E questi rimedi Non sono quelli Che noi Vorremmo Che ci dessero Sicurezza Sono i rimedi Che Sono efficaci Sono efficaci Nella misura In cui Noi Li accogliamo Da Dio Come un dono Alla nostra Preghiera Cioè La Madonna Ci ha detto Molto Di quello Che accadrà Dipenderà Dalle vostre Preghiere Quindi Questo Per noi È di grandissimo Conforto Dunque Quello Che Che Vorrei Adesso Mettere A fuoco È perché La situazione Per la Madonna È grave E vuole capire E vuole Che noi Capriamo E comprendiamo La gravità Della situazione Allora La situazione È grave Perché La Madonna Vede Che Satana Cerca di Prevalere In modo tale Che la guerra Prenda proporzioni Tali Che Diventi Un incendio Che distrugge Il mondo Questo è Il suo Obiettivo Cioè All'ordine del giorno C'è All'ordine del giorno C'è quello che noi Non vediamo Quello che noi Non sappiamo Ma che la Madonna Vuole che si sappia E Navea Giovento Il 1991 È sempre L'ordine del giorno E ancora L'ordine del giorno Sarà soprattutto L'ordine del giorno Nei dieci segreti Dal quarto Al decimo Cioè Che Satana Vuol distruggere Il mondo E il pianeta Su quale viviamo E in più Vuol distruggere Anche la chiesa Questo dunque È Il quadro Che Più Terribile Non potrebbe essere Ma che Ci lascia Sereni Perché la Madonna Ha detto Gran parte Di quello che accadrà Dipende Dalle vostre preghiere Ecco Quindi Cari amici Questa è Come dire È la prospettiva Attraverso la quale Noi dobbiamo Vivere questi momenti Guardare questi momenti Ci sono A mio parere C'è comunque Anche un'informazione Che Che Non voglio Entrare In discussioni Inutili Però C'è comunque Un'informazione Globale Che alla fine Finisce per Per Frastornarci Non capiamo più niente Insomma E non riusciamo più A avere una visione Di sintesi Non riusciamo più A guardare le cose Dall'alto Quindi vorrei dire Coltiviamo I messaggi Della Madonna Coltiviamo la preghiera In modo tale Che Riusciamo a tenere Come dire La prospettiva Che è di speranza E di responsabilità Nostra Che la Madonna Ci dà Quindi Speranza Perché comunque Lei è presente Poi Serenità Perché La Madonna È qui Per vincere È qui Per farlo fare Il suo cuore immacolato Quindi È importantissimo Per noi Non farci travolgere Diciamo Dalle passioni Dalle informazioni Poi Non si sa mai Qual è quella vera Non riusciamo a vedere Esattamente Come stanno le cose Noi Entriamo Nella prospettiva Soprannaturale Qui è nata Una grande battaglia Fra Dio È Satana Come ha detto La Madonna I primi giorni D'apparizioni È nata Una grande battaglia Fra mio figlio E Satana Mio figlio vincerà Ma anche Satana Riuscirà ad avere La sua parte La sua parte Di anime Questa è la prospettiva Cari amici Mai perdere La prospettiva Soprannaturale Mai perdere Quindi La serenità Ma nel medesimo tempo Consapevoli Della nostra responsabilità Che è quella Di fare Quella è quella Che è quella Che amore Che amore Di fare Cioè Preghiera Digiuno Sacrifici Per la pace Ce la metto nel messaggio Di ottobre Figlioli Siete Le mie Mani Tese Pregate Digiunate Offrite sacrifici Per la pace Che è il tesoro Al quale Annera ogni cuore Allora Cari amici Con la frase Di Che la pace Il tesoro Che annela Al quale Ogni cuore Sarà Una 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 La chiave Di lettura Del tempo Dei segreti Perché È chiaro Che La ricerca La pace Sarà l'unica Che Darà un messaggio Di speranza E i cuori Si apriranno A questa speranza Anche se In questo momento Dobbiamo dire Che I messaggi Di ricerca La pace Hanno avuto Pochi cuori Che l'hanno Accolti Insomma Quelli Dei Fervorosi Pellegrini Meggiugori Non tanto di più Credo Per il momento Salvo Le ottime Iniziative Per la gioia La pace Interessante Quella del santo padre Per tutta la chiesa Però Cari amici Non Come dire Io percepisco Tutti noi Percepiamo Che Come dire Non siamo entrati Nella guerra Vera Che si fa Con l'aprire Il digiuno Cioè Non siamo entrati Nella guerra Contro Satana Che vuol distruggere Il mondo Non ci crediamo Non Siamo un po' Come dire Stiamo a vedere Ma Quelli Esagerano No La Madonna Non esagera mai Ci dice Come stanno Le cose Allora Cari amici Questo è il quadro Nel quale Ho voluto Collocare L'inizio Nella nostra conversazione Che è un appello Alla speranza Perché La Madonna ci ha detto Molto di ciò che accadrà Dipende dalle vostre preghiere E Quindi un quadro di speranza Sicuramente E di responsabilità Nel senso Di Come la Madonna Ci ha detto Nel messaggio Di Nel messaggio Di ottobre Ci ha detto Che Non vuole Soltanto La preghiera Ma la preghiera Perseverante Cioè E' come se Ci è Se state attenti Adesso vi do il messaggio Poi Per due o tre giorni Siete fervorosi Poi vi dimenticate Tornate come prima Poi magari Vedete che le cose Stanno Sono tranquille E Quindi Smettete di pregare Così satana Fai quello che vuole fare Allora Però Al di là Di questo Di questo Quadro Che E Di speranza E responsabilità Pur nella Consapevolezza Che Mai il mondo E' stato così male Come adesso Cioè Quello che colpisce Sono le ventate D'odio D'odio Guardate che I messaggi Della Madonna Sono incredibili Come Sembrano semplici E poi li prendi In mano La Madonna Ha iniziato il messaggio Di ottobre Gare Fili I venti Del male Dell'odio E dell'inquietudine Soffiano sulla terra Per distruggere Le vite Cioè Guardate che Panorama Ci ha descritto La Madonna Cioè Lei Va al di là Di quello che noi Vediamo in televisione O sentiamo nei dibattiti Lei Ci mette Come dire E ci Chiama A sintonizzarci Con lei A avere i suoi occhi E vedere Quello che il mondo Non vede Cioè Che sul mondo Soffiano I venti Dell'odio Del male Prima di tutto Del male Prima cosa Dell'odio Del male Cioè Noi vediamo Che Stiamo andando Verso la corsa Precipitosa Verso l'inferno Stiamo correndo Verso l'inferno Cioè I segni di malvagità Di brutalità Di cattiveria Di mancanza Di qualsiasi regole Cioè I sensi Dell'uomo In balia del demonio Sono così evidenti Eppure Non li vediamo E la Madonna Ci dice Guardate Osservate il mondo Come lo vedo io Sentite Come soffiano I venti Del male Cioè Dell'inferno Il sibro Dei demoni E poi Dell'odio L'odio Che è Cari amici Odio contro Dio Prima di tutto Odio contro Dio E odio contro Noi stessi anche E odio contro Il prossimo E poi Un'agitazione Universale Per cui Come zanzare Impazzite Ci buttiamo Nel fuoco Che ci arderà Allora Questi venti Del male Dell'odio E dell'inquietudine Della Non so Come chiamarlo Comunque Della perversione Mancanza Di qualsiasi regola morale Di qualsiasi sensibilità morale E questi odi Questi venti Cosa fanno? Distruggono le vite Distruggono le vite Le falciano Le schiacciano Ecco Cari amici Noi Comunque Abbiamo La possibilità Con Maria Come ha detto All'inizio Della guerra in Ucraina Pregate con me Perché Satana non prevalga Quindi preghiamo con Maria Non stanchiamoci Andiamo avanti Organizziamo la giornata Sulla preghiera Perché Satana Non prevalga Bene carissimi Questo è quello Che volevo dire Ricordare Il messaggio di Maria Che ci sarà Di grande aiuto Nel cammino futuro Cioè Voglio che capiate La gravità Della situazione Tuttavia Gran parte Di quello che accadrà Dipende Dalle vostre preghiere L'almanacco della fede Di Padre Livio